salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi porto sul canale la mia recensione di lui a gs home alarm un sistema di allarme domestico love cost totalmente senza fili che ci dà la possibilità di rendere più sicura la nostra abitazione con una facilità incredibile nell'installazione questo è il kit d'avvio che trovate disponibile su amazon attualmente costa con il coupon sconto che amazon vi fa applicare a oggi costa circa 109 euro e al suo interno abbiamo già praticamente tutto quello che ci serve per avviare il nostro sistema di allarme sì perché all'interno della confezione troviamo due radiocomandi con la possibilità di attivare e disattivare l'antifurto tasto sos o azionare un programma preimpostato del nostro antifurto dopo di che abbiamo un sensore di movimento una tastiera per attivare disattivare l'antifurto e la zona dell'antifurto che abbiamo impostato la centrale di controllo con sirena inclusa e 10 sensori a contatto cioè i sensori per porte o finestre e come vi stavo dicendo uno dei punti di forza di questo sistema di allarme è la semplicità di installazione non avendo filici dalla possibilità di installarlo come vogliamo dove vogliamo quindi i suoi componenti saranno veramente liberi nell'installazione e poi basta avere lo smartphone per quanto riguarda le notifiche e controllo se vogliamo oltre ai suoi radiocomandi o tastiera perché poi con la sua applicazione smart life è possibile appunto andare ad aggiungere i vari dispositivi configurare programmare le zone cioè ci dà tante possibilità e in più riceviamo le notifiche quando c'è un avviso di segnalazione di intrusione o comunque di movimento nella nostra abitazione quindi un dispositivo che secondo me per il prezzo con cui viene venduto è davvero davvero notevole ovviamente non state comprando l'antifurto della zecca di stato però è sicuramente un antifurto però sicuramente è un sistema però sicuramente un sistema di sicurezza e di sorveglianza che ci può venire davvero molto molto utile ma adesso guardiamo da vicino com'è questo sistema d'allarme ags home allora all'interno della confezione troviamo una cartelletta con all'interno degli adesivi da applicare per far vedere che la nostra casa è protetta da un antifurto poi troviamo il manuale di istruzioni in italiano troviamo il tastierino per andare ad inserire disinserire l'allarme troviamo vari accessori tra cui il radiocomando supporto per il sensore di movimento cavo di ricarica e presa per l'alimentazione dopodiché abbiamo un pacchetto di biadesivo 3m per andare ad applicare tutti i sensori a contatto per le porte e le finestre dopodiché abbiamo un altro piccolo radiocomando uguale a quello che abbiamo visto in precedenza negli altri accessori poi abbiamo i sensori a contatto di cui ne abbiamo 10 quindi potremmo proteggere 10 o porte o finestre o un po uno o un po l'altra quindi 10 sensori a contatto che però è possibile anche comprare poi separatamente se ce ne dovessero servire degli altri dopodiché troviamo il sensore di movimento ne abbiamo uno nella confezione abbiamo anche supporto come avete visto prima per il fissaggio a muro ovviamente anche di queste è possibile acquistarne altri separatamente in base alla necessità che ne abbiamo però in questo kit ne abbiamo uno solo ed infine abbiamo quello che è la centrale di controllo del nostro antifurto compreso di sirena da 120 decibel quindi bella potente per le dimensioni di questa piccola centrale di controllo allora avete visto tutto quello che c'è all'interno della confezione qua abbiamo i pezzi principali ovviamente ho preparato solo un sensore di contatto e solo un radiocomando giusto per non creare troppo casino troppa confusione comunque di questi come avete visto ne avete 10 e di radiocomandi ne avete due la prima cosa da configurare è la centrale di controllo dove al suo interno abbiamo anche una sirena da 120 decibel come sentirete dopo è bella bella performante quindi sicuramente quando siamo in casa andiamo a sentirla anche se stiamo dormendo molto profondamente perché è davvero molto molto forte qua al suo interno abbiamo una batteria ricaricabile poi tramite la presa type sì che abbiamo qua sopra e il suo alimentatore e cavo in dotazione andremo a tenerla sempre alimentato a ricaricare la batteria mentre all'interno degli altri dispositivi abbiamo batterie ovviamente non ricaricabili che andranno sostituite una volta che saranno scariche però vi garantisco che le batterie per questi dispositivi durano davvero molto molto tempo allora la prima cosa da fare come abbiamo detto è andare ad installare lei andando a scaricare l'applicazione che si chiama smart life una volta avviata la nostra base di controllo e avviata l'applicazione basterà andare a fare aggiungi dispositivo quindi andremo ad aggiungere la base di controllo che viene rilevata dall'applicazione basterà andare ad associarla inserire la password della nostra rete wifi questo dispositivo funziona solo sulla 2,4 giga per quanto riguarda la banda wifi una volta fatto tutta questa procedura davvero molto 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 semplice la base di controllo sarà già attiva e funzionante dopodiché dovremo andare ad associare gli altri dispositivi anche qua ragazzi è davvero molto semplice perché loro sono già preconfigurati quindi l'installazione diventa davvero molto molto semplice una volta che sarà stata abbinata la nostra centrale di controllo avremo ovviamente la scritta verde e il pulsantino verde nel display del nostro smartphone quindi andiamo a selezionare qua possiamo controllare la centrale di controllo direttamente dall'applicazione abbiamo la voce modalità home che ci darà la possibilità di essere in casa ma quindi i sensori di movimento saranno disattivati saranno attivati solo quelli perimetrali cioè i sensori a contatto quindi staremo in casa in sicurezza ma potremmo starci senza far suonare l'allarme perché lui non sarà abilitato poi abbiamo modalità via che ci dà la possibilità di andare ad inserire l'allarme quindi l'allarme completo compreso di sensori di movimento modalità disattivato che adesso è la funzione che è attivata in questo momento per andare a disattivare l'allarme quando non lo vogliamo attivo o quando sta suonando o la voce SOS che farà suonare la sirena indipendentemente dall'allarme proprio come avviso quindi avete sentito e subito vedete è arrivata la notifica nello smartphone perché ho cliccato SOS dopodiché abbiamo impostazioni nelle impostazioni possiamo andare a configurare tutte le voci possibili e immaginabili vedete la durata del sistema di allarme programmare gli orari l'attivazione automatica dell'allarme tutto è davvero configurabile anche il volume della sirena e il tono di allarme quindi il tipo di suono che noi vogliamo che faccia la sirena le notifiche cioè veramente abbiamo tantissime possibilità poi abbiamo la voce accessori dove andremo ad associare i vari accessori quindi il sensore di movimento il sensore a contatto il tastierino e il due radiocomandi quindi tutti questi accessori sono abbinabili in questa schermata dell'applicazione in alto vedete abbiamo il remoto e a destra abbiamo il remoto qua c'è un errore di traduzione comunque il remoto la prima voce vedete abbiamo sensor perché ci dà la possibilità di andare ad abbinare i sensori mentre l'altra voce il remoto ci da remoto vedete abbiamo tre voci remote che sono il tastierino e i due radiocomandi quindi in base alla tipologia di accessorio che dobbiamo abbinar dobbiamo selezionare la voce che abbiamo in alto adesso andiamo ad associare con il remoto il sensore a contatto una volta tolta la linguetta che tiene separata la batteria dal contatto per non far consumare le batterie basterà andare ad avvicinare i due contatti che vedete hanno una frecciolina qua sul fianco cosa vuol dire che questa frecciolina deve vedersi una con l'altra il lato giusto è quando le due frecce sono messe a contatto quindi in questo modo lui adesso è funzionante basterà andare a selezionare aggiungi avete sentito il bip una volta che io ho fatto aggiungi vado a separarlo lui finisce il suo abbinamento a questo punto il sensore sarà attivo a questo punto possiamo andare ad abbinare il sensore di movimento basterà andare ad avviarlo con l'interruttore che abbiamo nella parte posteriore inizia a lampeggiare un led blu qua sopra andiamo a fare aggiungi perfetto avete visto che ha lampeggiato la luce sopra la centrale adesso anche lui è abbinato quindi abbiamo già abbinato questi due dispositivi vedete ci vuole veramente poco adesso andiamo ad abbinare il tastierino per abbinare il tastierino è semplice nella voce il remoto quello in alto a destra andiamo a fare aggiungi e andiamo a tenere premuto il tasto panico per tre secondi ok vedete che ha lampeggiato qua e ha lampeggiato qua quindi i due dispositivi si sono abbinati adesso andiamo ad associare il piccolo telecomando in dotazione ne abbiamo due come abbiamo visto nell'unboxing anche per lui è altrettanto facile basta fare aggiungi sempre nella voce qua e premere uno dei tasti che abbiamo qua sopra uno dei quattro va sempre bene lo teniamo premuto avete visto che qua ha fatto tutte le luci colorate cioè bianca e rossa adesso lui è abbinato quindi abbiamo tutto il sistema completo per quanto riguarda i dispositivi che abbiamo qua sopra adesso alla scrivania quando andremo ad aggiungere gli altri sensori sarà veramente molto molto semplice con il remoto in alto a sinistra nell'applicazione aggiungeremo i sensori mentre per quanto riguarda i telecomandi o il tastierino il remoto in alto a destra quindi adesso il nostro sistema di allarme è funzionante infatti adesso se io entro nell'applicazione e vado ad attivare la modalità antifurto ok adesso il sensore di movimento dovrà ecco infatti non ho fatto in tempo a finire di parlare vado a disattivare l'allarme usando il telecomando in dotazione avete visto che ho interrotto utilizzando il lucchettino aperto qua sopra se vado a cliccare quello chiuso avete sentito il bip nella base adesso ho riattivato l'allarme infatti vedete che il sensore di movimento ha fatto ripartire il tutto andiamo ad interromperlo ok vedete come le notifiche sono immediate stessa cosa con il tastierino adesso vado a inserire l'allarme col telecomando ok il bip ci dice che è stato attivato l'allarme vado a farlo suonare ok e vado a utilizzare il tastierino per disattivarlo basterà andare ad inserire 4-0 che è il codice di default che però si può ovviamente modificare quindi 1 2 3 4 x e vado a disattivare l'allarme il codice di default è 4-0 però questo codice è quello appunto di default possiamo andare a modificarlo in maniera molto semplice basterà entrare come amministratore come amministratore per accedere dobbiamo fare 6-0 1 2 3 4 5 6 poi lo sfleghino avete sentito il bip adesso siamo entrati in modalità amministratore possiamo andare a digitare il codice nuovo per inserirlo dobbiamo digitare sempre un 1 davanti che poi ovviamente non servirà all'interno del codice ma serve solo per accedere a questa funzione poi mettiamo un codice a caso che ne so 7077 diamo l'ok con lo sfleghino adesso questo sarà il nostro nuovo codice per disattivare l'allarme proviamolo vado ad inserirlo adesso direttamente dalla tastiera basterà andare a selezionare uno dei due programmi quello completo o quello non completo appunto in base se vogliamo attivare noi sensori di movimento sono i sensori a contatto mettiamo inseriamo quello completo quindi questo basterà tenerlo premuto per tre secondi stessa cosa per quello non completo quindi tre secondi ok avete visto qua la lucina rossa sistema di sicurezza di allarme remoto attivato ci esce anche la notifica nello smartphone abbiamo sentito anche il bip nella base e anche qua ovviamente vedete modalità via fateci caso proprio la traduzione non perfetta con la lingua italiana comunque abbiamo il lucchetto chiuso quindi abbiamo inserito l'allarme ogni cosa che noi andiamo a fare avremo sempre la notifica nello smartphone e poi con una tempestività veramente impressionante quindi adesso l'allarme è inserito lui adesso non mi sta rilevando perché è puntato verso l'alto però se io vado a passare la mano sopra e a farmi vedere ok avete visto che è partito quindi proviamo se adesso il nuovo codice che abbiamo inserito funziona 7077 e funziona avete visto che adesso il mio codice non è più 000 che è quello di default ma è 7077 quindi in pochi passaggi andiamo anche a modificare il nostro codice d'accesso preferito comunque tutto è spiegato davvero molto bene nel manuale di istruzione che comunque è in lingua italiana quindi quello che magari vi è sfuggito dal mio video lo potete capire tranquillamente dal manuale di istruzioni adesso proviamo i sensori a contatto se funzionano quindi andiamo ad inserire l'allarme non completo quindi teniamo premuto il primo tasto qua in alto del tastierino led rosso e questo si è inserito notifica quindi tutto ha funzionato bene questo adesso non funziona è disattivato lampeggia di blu ma non manda il segnale di avviso quindi per lui rilevasi il movimento ma non manda il segnale perché abbiamo messo solo l'antifurto perimetrale quindi andiamo a staccare il contatto ed ecco che è partito l'allarme quindi adesso dobbiamo disattivarlo possiamo farlo sempre tramite un piccolo radiocomando o con il tastierino quindi 7077X ed ecco che l'abbiamo disattivato avete visto che spettacolo di sistema di allarme love cost ovviamente non state acquistando ve l'ho già detto un sistema di sicurezza della zecca di stato è ma state acquistando un sistema di sicurezza facile da installare senza fili che vi dà la possibilità di avere degli avvisi di intrusione sia nello smartphone sia in casa quando magari siete a letto state dormendo quindi in qualsiasi momento degli avvisi di intrusione che ci permettono di stare più tranquilli a livello di materiali sicuramente le plastiche non sono le plastiche migliori al mondo ma non è importante questo qua state pagando un dispositivo low cost quindi da qualche parte si è risparmiato quindi i materiali non sono top di gamma per quanto riguarda le plastiche ma il sistema funziona davvero molto molto bene e anche le notifiche arrivano in maniera molto tempestiva e questo che è veramente impressionante ed è molto utile perché se la notifica arriva dopo tanto tempo serve a poco mentre anche per quanto riguarda l'SOS quindi l'SOS del radiocomando guardate lo premo suona è arrivata già la notifica cioè tutto è veramente impressionante dal punto di vista della tempestività andiamo a disattivarlo sempre con il radiocomando perché qua la sirena è fortissima ti spacca i timpani cioè adesso io non so se dal microfono si sente ma è davvero potente è piccolo cioè se pensiamo che qua dentro c'è sia la centrale di controllo che la sirena è davvero impressionante la potenza che ha questa piccola e compatta sirena spero di essere stato chiaro di essere riuscito a trasmettervi le potenzialità di questo sistema di allarme le sue caratteristiche principali e la sicurezza che ci dà in un rapporto qualità prezzo davvero notevole sì perché come io ho detto inizio video trovate il link qua sotto in descrizione per l'acquisto lui è disponibile su amazon quindi con tutte le garanzie clienti date da amazon e attualmente con il coupon sconto che amazon ci fa applicare questo sistema di allarme è scontato a 109 euro poi magari quando non è scontato va a 120 però il prezzo più o meno è questo per questo kit di avvio poi c'è un kit d'avvio un po più economico dove abbiamo qualcosina in meno per quanto riguarda gli accessori e poi è possibile ovviamente ampliare il kit d'avvio quindi andare acquistare degli altri sensori di movimento perché magari abbiamo la necessità di utilizzarne più di uno o di averne più di uno e anche i sensori a contatto c'è la possibilità di andare ad acquistare separatamente se quelli in dotazione in questo caso 10 non sono abbastanza per la nostra abitazione quindi ne vogliamo degli altri li acquistiamo separatamente comunque tutti i link di questi dispositivi vi lascio qua sotto in descrizione e se questo mio video in cui vi ho portato questo sistema di allarme love cost ags home allarme vi è piaciuto l'avete trovato utile ed interessante lasciatevi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novitanti e prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale e anche tantissime altre cose che non sono spoiler arrivano su instagram quindi vi invito a seguirmi anche in quel profilo sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove ho posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale li trovate tutti gli sconti dati soprattutto da amazon o altri prodotti che di cui riesco ad ottenere dei coupon sconto quindi anche di lui quando sarà in offerta su amazon lo trovate sicuramente nel mio canale telegram offerte e se volete potete anche iscrivervi al mio canale telegram usati poco da un nerd e mezzo dove propongo tutti i prodotti che non tengo perché ovviamente spesso sono troppi non li posso ottenere tutti quindi tanti sono prodotti che ho utilizzato solo per le recensioni poi metto in vendita a prezzi veramente veramente stracciati quindi se vi va seguitemi anche sul canale telegram usati poco da un nerd e mezzo ma quello che dovete fare assolutamente è iscrivervi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video una recensione un tutorial o una novità ciao e al prossimo video ciao ciao ciao